Villa Barucchello a Porto Sant'Elpidio ha ospitato un seminario sull'area di crisi, dal quale è emerso chiaramente che la call per le manifestazioni di interesse in scadenza al 30 settembre non riguarda solo le aziende del calzaturiero e della pelletteria, ma tutte quelle di ogni settore. Questo intervento riguarda un'area che è piuttosto vasta ed è interessata dalla crisi del distretto Pelli e Calzature del Fermano Maceratese. La particolarità risiede nel fatto che sarà interessato ad un accordo di programma, quindi le risorse che verranno messe a disposizione saranno sia di parte nazionale sia di parte regionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà risorse per i progetti di entità più elevata, superiore al milione di euro. La Regione ovviamente cercherà di intervenire dove il Ministero non potrà finanziare, quindi per progetti di più bassa levatura. L'intento è quello di rilanciare e sviluppare il tessuto produttivo che è stato colpito dalla crisi del distretto. Non saranno incentivate soltanto le attività del distretto Pelli e Calzature, né soltanto le imprese che risiedono già in questo distretto. Quindi saranno attratti investimenti anche fuori territorio da parte di imprese che vogliono investire ma sono fuori del territorio fermano maceratese e potranno essere incentivate anche attività che non riguardano le Pelli e Calzature, ma altri settori manifatturieri ad esempio, oppure dei servizi alle imprese o imprese che intendono diversificare la propria produzione. Quindi parliamo anche di una sorta di riconversione per alcune delle imprese, soprattutto sul versante turistico, ma anche delle eccellenze e dell'enogastronomia. Certo, già il progetto iniziale che abbiamo dovuto presentare al Ministero per avere il riconoscimento dell'area di crisi, abbiamo avuto una prima proposta di PRI, di progetto di riconversione e riqualificazione industriale, prevedeva alcuni settori alattere, cioè ulteriori rispetto a quelli tradizionali della manifattura. Il turismo, il settore enogastronomico, la possibilità di creare delle filiere turismo, cultura e artigianato artistico e culturale. Quindi verranno incentivati anche questi settori e soprattutto le filiere fra questi settori. Inoltre è stato evidenziato l'aspetto relativo alla tutela dei livelli occupazionali. Gli investimenti dovranno essere correlati all'incremento appunto dei posti di lavoro. Non da ultimo è stato ricordato che possono partecipare alla call anche coloro che non hanno ancora avviato un'attività e quindi non dispongono ancora di una partita IVA. Questi alcuni dei passaggi sottolineati nel seminario organizzato dalla CNA di Fermo a Porto Sant'Elpidio, che ha avuto un grande riscontro di partecipazione di interesse da parte di aziende e professionisti, che hanno rivolto numerose domande alla dottoressa Roberta Maestri della Regione Marche e al dottor Pasquale Pignalosa di Invitalia, dai quali hanno avuto risposte chiare e puntuali. Quindi la possibilità di mettersi insieme ma anche dei cosiddetti ammortizzatori sociali per coloro che hanno già perso il lavoro e che si trovano in difficoltà. Sì, già abbiamo fatto la richiesta, l'ha fatto il nostro assessorato al lavoro, richiesta di fondi per misure di sostegno al reddito ai lavoratori che sono stati interessati da crisi aziendali. Le aree di crisi da questo punto di vista godono di particolari benefici perché qui si possono chiedere misure particolari di sostegno al reddito. Quindi abbiamo già chiesto al precedente ministro dello sviluppo economico e anche del lavoro di Maio di attivare subito un plafond di risorse dedicate nel bilancio 2020 dedicata agli ammortizzatori sociali, quindi misure di politiche passive. Ricordo che però in un piano di sviluppo per le aree di crisi le misure di sostegno al reddito dovranno sempre essere integrate con misure di politiche attive. Quindi i lavoratori che escono dovranno essere incentivati a rientrare nel mercato del lavoro con misure di politiche attive come formazione, aiuti all'occupazione, aiuti all'autoimprenditorialità. Presenti in sala anche numerosi amministratori del territorio, compresi il consigliere regionale Francesco Giacinti e l'assessore regionale Fabrizio Cesetti, che ha dichiarato come questi provvedimenti in sinergia tra Stato e Regione sono davvero importanti per risolvere una crisi complessa che attanaglia questo territorio ormai da tanto tempo. Il sindaco nazareno Franchellucci ha ricordato la preoccupazione degli amministratori e quindi ha sottolineato come non si deve assolutamente sprecare un'opportunità forse irripetibile dedicata a chi fa impresa in questo territorio.